buongiorno a tutti e benvenuti in questo altro video tutorial che serve per far vedere come gestire un allegato e metterlo in relazione con la domanda di mobilità allora prima di entrare sull'istanza di mobilità andate su altri servizi scendete fino a trovare in altri servizi il la gestione allegati il servizio gestione allegati e andate vai al servizio andate ancora avanti cliccate ancora avanti per entrare in una pagina di anagrafica del docente e poi cliccando ancora avanti si entrerà proprio nella pagina del dedicata al servizio della gestione alle una volta entrati proprio nella pagina della gestione allegati oltre alle istruzioni di utilizzo dove si raccomanda di allegare un una tipologia di allegato con questi formati o formato doc o di testo o pdf cioè dunque questi formati anche un formato docs piuttosto che di excel andate scendete in basso proprio per inserire l'allegato che vi interessa scendendo in basso avete un tanto l'elenco degli allegati e poi in questa voce avete la voce inserisci cliccando su inserisci si andrà in una pagina dove sarà consentito inserire il vostro allegato di riferimento dopo aver cliccato inserisci compare proprio la tipologia di allegato che si vuole inserire per esempio scrivete in questo spazio dichiarazione titoli e andate poi a scegliere il file sulla dichiarazione titoli e vostra e per esempio questo file e fate apri facendo apri che cosa succede che si allega il file desiderato e con conferma questo file verrà automaticamente inserito essendo inserito l'allegato è stato diciamo puntualmente inserito per cui troverete troverete scendendo e andando di nuovo ad analizzare l'elenco allegati l'allegato che riporta la data dell'otto di marzo 2023 cioè quello che avete proprio inserito in questo momento dopodiché tornate indietro e entrate nelle istanze online nella domanda che state compilando e vi farò vedere facendo questo questa nuova istanza come collegare questa dichiarazione titoli alla vostra domanda di mobilità ecco una volta entrati nella sezione della domanda della compilazione la domanda tra le varie sezioni ce n'è una l'ultima in sostanza che sarà la sezione dedicata all'indicazione degli allegati cliccando su indicazione degli allegati e scendendo vedete avete la possibilità di allegare fino a nove allegati dunque c'è un abbondanza di allegati dal menu a tendina del primo allegato cliccando troverete la vostra il riferimento alla vostra domanda ecco la dichiarazione titoli che avete appena allegato la cliccate e a questo punto avendo cliccato qui avrete la possibilità di salvare facendo salva nel salvataggio dei dati della domanda la domanda e l'allegato verrà salvato e dunque utilizzato per poi inoltrare la domanda stessa speriamo che questo video tutorial sia utile per saper gestire correttamente gli allegati senza commettere errori arrivederci a tutti e a presto per un altro video tutorial sulla mobilità 2023 2024 grazie a tutti